Grazie a tutti. Che cos'è questa? Guardate, io sono il Flash. Al Flash piace. Scusami. Sì! Toglitela prima che qualcuno ti veda. Ma tu le stai mettendo in valigia una uguale? Ci nascondi qualcosa? Per favore, sono al telefono e... Flash! Questa è tua, è fatta apposta per te. Che cosa succede? Voi non venite, io devo fare la valigia! Perché è fatta apposta per me? Ah, non lo so. Perché mamma la nascondeva? Che cos'è? 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 Non potete scappare, ragazzi! Sembra promettente! Ah, sta diventando ridicolo! Ma perché ci provano? Non potete scappare, ragazzi! Non potete scappare, ragazzi! Oh, sì! Ma perché ci provano? Non potete scappare! Non potete scappare, ragazzi! Ah, sta diventando ridicolo! Sì, così! Ma perché ci provano? Non potete scappare! Non potete scappare, ragazzi! Proprio quello che mi serve! Ah, sta diventando ridicolo! Pieno di muscoli e pronto a metterli all'opera! Non potete scappare, ragazzi! Non potete scappare, ragazzi! Persaglio in vista! Preso! Non potete scappare, ragazzi! Sì! Così! Non potete scappare, ragazzi! 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 Persaglio in vista! Non potete scappare, ragazzi! Non potete scappare! Non potete scappare! Ahia! Ma perché ci provano? Ah, perché non è mai facile? Ahi! Aio! Non potete scappare, ragazzi! Non è finita! Non potete scappare, ragazzi! Non potete scappare! Non potete scappare, ragazzi! Non potete scappare, ragazzi! Proprio quello che mi serve! Guarda che addominali! Sì, così! Sì! Sì! Bello! Prendi questo! Ah, perché non è mai facile? Sta diventando ridicolo! Prendi questo! 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 Prendi il caso! Prendi questo! È uno così grande! Violetta, fallo in basso! Annullate, annullate! Annullate, annullate! No! Tenetevi forte!